bentornati a collegarvi su questo canale un saluto a tutti gli amici di youtube torniamo a parlare di android e tasker e oggi lo facciamo con un piccolo con una piccola novità come vedete siamo ancora una volta in automobile avevo già proposto un piccolo video per realizzare un computer di bordo con uno smartphone in automobile potete andarlo a riguardare sul canale oggi vediamo qualcosa di nuovo praticamente stanco del vecchio autoradio originale della mia della mia automobile o mi sono diciamo cimentato nel cercare di integrare un tablet android all'interno della plancia della mia della mia automobile ho comprato un piccolo mascherino doppio din originale l'ho modificato un pochino all'interno facendo dei piccoli tagli ne sono riuscito ad applicare un nexus 7 chiaramente avendo tolto l'autoradio all'interno ho dovuto inserire un piccolo amplificatore collegato a un ricevitore bluetooth che si collega diciamo in bluetooth chiaramente con il tablet e mi manda l'audio all'interno del sistema originale della della mia auto il tutto l'ho fatto passare tramite questo pulsantino in maniera tale da poter disalimentare il tutto non potendo rimuovere ogni volta tutto il frontalino quindi mi basterà premere questo pulsante diciamo per attivare l'intero sistema sia macchina spenta che a macchina accesa ecco vediamo parte il sistema bluetooth con questo piccolo suono sblocco chiaramente ho creato un sistema di sblocco protetto per evitare che in caso di furto di automobile qualcuno possa accedere al sistema e manometterlo quindi mettiamo il nostro codice segreto che adesso non sarà più segreto togliamo la modalità offline e iniziamo a dare un'occhiata a come ho organizzato l'intero sistema praticamente ho creato diverse diverse home alternative tematiche in base al tipo di utilizzo adesso gli andiamo a dare un'occhiata nel dettaglio allora nella prima home vediamo ho inserito diciamo i dati tipici dell'automobile ecco nel frattempo lui si è collegato mi dice che è online si collega a internet tramite il tethering del del mio smartphone chiaramente dovete avere una connettività dati disponibile sullo smartphone da condividere con il tablet che in questo caso si collegherà in wifi oppure dovete optare eventualmente vogliate realizzare un sistema del genere per un tablet che abbia già a bordo una sim con un traffico dati attivo e quindi in questo caso utilizzereste direttamente il traffico dati all'interno della sim in questa prima schermata ho racchiuso un attimino alcuni widget di torque che abbiamo già avuto modo di guardare in un altro video quindi se io metto in moto la macchina magari dopo ve lo mostro vedremo che chiaramente il contagiri contachilometri sensore della turbina questo è il sensore della temperatura del liquido refrigerante del motore eccetera iniziano a muoversi coerentemente con 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 la macchina perché il tablet in bluetooth prende i dati direttamente da un adattatore odbc scusate non odbc deformazione professionale da un adattatore obd2 montato direttamente sulla porta della diagnostica per la centralina elettronica se cambiamo home vediamo che qui abbiamo tutti i comandi per la domotica che ho portato all'interno della macchina e quindi avremo la categoria illuminazione si apre questa sottocartella e abbiamo che ne so le luci del soggiorno piuttosto che le luci del gazebo eccetera eccetera abbiamo qui allarme sempre di casa on off abbiamo la videosorveglianza abbiamo la parte comfort che è praticamente l'aria condizionata sempre di casa e il controllo della della produzione del sistema fotovoltaico l'apri portone è il sistema di irrigazione queste sono tutte cose che già avete visto all'interno del canale ci sono dei video dedicati e quindi potete andare a dare un'occhiata ai vari video nel caso vogliate insomma implementarli e capire come fare li ho racchiusi tutti in questa home in questa schermata sul mio tablet in maniera tale da poterli comandare direttamente dall'automobile e chiaramente per evitare di dovermi distrarre alla guida ho implementato anche una serie di comandi vocali che posso direttamente pronunciare per dare alcuni comandi utili chiaramente ho attivato l'aria della voce always on in maniera tale che lui è sempre in ascolto e quindi non devo pigiare alcun bottone per attivare la richiesta vocale e poi posso dare i comandi per esempio se volessi sapere che temperatura c'è attualmente all'interno di casa mia mi basterà dire ok google temperatura a casa sto contattando casa la temperatura in casa è di 20.1 gradi ecco ci ha detto che la temperatura in casa è di 20.1 gradi adesso andiamo un attimino ad alzare il volume perché ho visto che era un po basso chiaramente per il volume essendo scomparsi i tastini perché sono finiti all'interno della cornice del tablet ho dovuto utilizzare un widget tipo questo che mi permette di alzare e abbassare il volume ora ho visto che esistono parecchi accessori bluetooth online che possono essere acquistati di cui alcuni possono essere anche montati direttamente sul sullo sterzo dell'automobile che ti danno la possibilità di abbassare e alzare il volume collegandosi in bluetooth col dispositivo senza dover diciamo entrare nei sottomenu comunque per ora l'ho organizzato così chiaramente il sistema in continuo evoluzione e va migliorando oppure sempre per quanto riguarda la smart house se volessi collegarmi alle telecamere di casa basta diciamo richiamare sempre il comando vocale ok google mostrami telecamere ecco lui si collega alla telecamera e mi mostra la telecamera di casa e quindi diciamo anche essendo alla guida posso eseguire una serie una serie di comandi se volessi far partire l'irrigazione per esempio del giardino e anche di questo potete andare a guardare un video sul canale ho preimpostato che ne so irrigazione 15 minuti 30 minuti e 60 minuti che ne so lancio un 30 minuti il sistema di irrigazione sarà attivo per 15 minuti ecco lui adesso è partito chiaramente non posso farvelo guardare in tempo reale che è partito ma vi assicuro che è partito realmente quindi sezione domotica posso controllare veramente di tutto accendere e spegnere luci che ne so aprire il portone adesso sono proprio accanto al portone magari si sente ecco probabilmente avete sentito l'elettroserratura che è partita accesso portone autorizzato perfetto chiaramente questo anche a comando vocale passiamo all'altra home qui a tutta la parte multimedia quindi per esempio posso tranquillamente sentire spotify che è una cosa che mi piace veramente tantissimo avere in macchina direttamente senza dover diciamo senza dover passare diciamo per musiche particolari avere mp3 cd o roba del genere io sono molto abituato ad avere ad utilizzare la musica in streaming chiaramente per fare questo tipo di utilizzi dovete dotarvi di un piano dati di una certa entità io ho un piano dati di 2 gigabyte a settimana disponibili sullo smartphone per questo tipo di utilizzo vanno più che bene non li consumo praticamente quasi mai ho diciamo aggiunto anche delle radio online nel caso volesse ascoltare radio potrei guardare anche che ne so la rai in diretta piuttosto che netflix tutti i canali diciamo tutti tutti i film che ho registrati su netflix eccetera che sono disponibili in streaming su netflix ecco qui basta scegliere e mandare in play un film qualsiasi youtube naturalmente foto l'archivio fotografico personale play film con tutti i film che ho nella raccolta di play film o se ne volesse acquistare di nuovi andiamo avanti su un'altra home naturalmente classico utilizzo da automobile navigatore satellitare quindi con maps chrome per la navigazione e google plus ciao detto questo andiamo un attimino solo a mostrare il sistema come funziona col collegamento di torque in automobile allora questo è un widget che mi permette di diciamo attivare la lettura dei dati in centralina quindi la posso spegnere e accendere da questo interruttore virtuale ora a tempo qualche istante lui si collegherà alla centralina ecco quando vediamo gli indicatori che diventano verdi vediamo che iniziano a leggere correttamente e vediamo che iniziano anche a salire e a scendere in base come utilizzo utilizzo il motore andiamo così e li possiamo spegnere bene detto questo diciamo che volevo semplicemente mostrarvi questa piccola questa piccola novità questa piccola implementazione che avevo fatto in automobili chiaramente se qualcuno dovesse essere interessato può contattarmi gli spiegano nel dettaglio come ho fatto gli strumenti che ho utilizzato e gli do qualche dritta su come poterlo utilizzare dimenticavo quando abbiamo termine quando ho terminato di usarlo per evitare che la batteria dell'automobile insomma si scarichi perché sempre acceso è sempre per il fatto che non ho più il pulsante fisico disponibile o diciamo organizzato tasker configurato tasker in maniera tale che quando disalimento il tablet quindi pigiando il pulsante di spegnimento lui fa un countdown di 7 secondi e dopodiché spegne automaticamente il dispositivo e lo mette offline per poi riaccenderlo alla successiva alimentazione del dispositivo in maniera tale che di notte quando lascio l'automobile diciamo di solito mi cala siano un per cento di batteria quindi rimane comunque sempre carico bene anche questo video termina qui vi ringrazio per averlo guardato vi invito a iscrivervi al canale qualora lo vogliate e vi invito a tenervi sempre sintonizzati per per osservare nuovi video che man mano inserirò sul canale un saluto da vincenzo ciao